Ben trovati al consueto appuntamento settimanale con il meteo e con le previsioni a cura del meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it. Giuseppe, prima di entrare nel dettaglio delle previsioni meteo per questo fine settimana, vogliamo informare i telespettatori sulla situazione attuale del tempo? Nel corso di questo fine settimana un'importante modifica all'assetto barico a scala continentale, peraltro già in atto, determinerà un sensibile peggioramento del tempo sull'intera nostra penisola. Anche la nostra regione subirà gli effetti in due distinte fasi, la prima caratterizzata da tempo perturbato con abbondanti precipitazioni, ma in un contesto termico relativamente mite, mentre la seconda fase sarà caratterizzata da temperature ben al di sotto della media stagionale, a causa di un'irruzione di aria fredda di origine artica. Una situazione senza dubbio anomala per il periodo in corso, ma che non deve suscitare scalpore poiché rientra nei possibili scenari della primavera, perché ricordiamoci che maggio è un mese primaverile. E per questo primo weekend del mese di maggio, quindi per sabato 4 e domenica 5, qual è il tempo previsto? Per domani, sabato 4 maggio, avremo cielo molto nuvoloso ovunque, con precipitazioni diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio. I fenomeni risulteranno più abbondanti sulle aree a ridosso dei rilievi esposte ad ovest, insistendo fino alla serata sul Cilento. Temperature stazionarie su valori lievemente al di sotto della media del periodo, venti in intensificazione da sud, tendenti a disporsi da occidente, mare da mosso a molto mosso. Per domenica 5, cielo irregolarmente nuvoloso, con addensamenti consistenti, specie nelle aree montuose, dove dal pomeriggio sera saranno possibili rovesci temporaleschi anche ai grandi inigeni. Sempre dalla serata saranno possibili nevicate al di sopra dei 1.500 metri, con limite della quota neve in calo fin verso i 1.200 metri nel corso della notte. Temperature in diminuzione, sensibile dalla serata, venti tramoderati e forti da ovest, nord-ovest e mare molto mosso o agitato. E sulla tendenza della prossima settimana, come si svilupperà la situazione? Lunedì la depressione si allontanerà verso i Balcani, consentendo l'ingresso di aria ulteriormente fredda, anche se l'instabilità tenderà ad attenuarsi concentrandosi nelle aree più interne e montuose. La ventilazione si disporrà da nord con intensità moderata. Con la successiva cartina vorrei mostrarvi le anomalie delle temperature previste a 1.500 metri di quota sull'Italia per la giornata di lunedì 6 maggio. Come potete apprezzare, sulla nostra regione avremo uno scarto negativo di circa 7 gradi centigradi. Vale a dire che le temperature nella giornata di lunedì faranno registrare valori di circa 7 gradi centigradi inferiori alla media calcolata negli ultimi 30 anni in questo periodo. Aria fredda comunque che abbandonerà la nostra regione tra martedì e mercoledì, consentendo un rapido aumento delle temperature nei giorni a venire. Ma per maggiori dettagli, come sempre, invito i telespettatori a consultare i prossimi